Se volete acquistare crediti passate da FIFA Coinzone, sono veloci, sicure e con un ottimo prezzo e con il codice coupon GIOVISPO otterrete il 3% di sconto, troverete il link qui sotto in descrizione Salve a tutti ragazzi, benvenuti ai miei iscritti brutti, bentornati su Giovec di Spò Io sono Giovispo e questo è il video settimanale del contest dell'estrazione della miglior battuta da 5K Sto vedendo ora le regole, mi scusa se negli ultimi giorni non ho portato nessun video ma come avete potuto leggere dalla pagina Facebook non sono stato per niente bene Vabbè, tralasciando questo, ieri sono tornato con il video della nuova serie che spero vi piaccia e ora vi porto questo nuovo video nel quale oggi stesso inizierà l'altro contest che finirà mercoledì e non giovedì, perché questo contest va solo per il mercoledì Vabbè, iniziamo con il numero 5 di quest'oggi Al numero 5 abbiamo Randall2427 con un grabiniero ogni volta che esce da una pagina telefonica si sente molto contento Dopo alcuni giorni una persona gli chiede Ma perché esci sempre contento? E gli risponde, perché chiede chi è il grabiniero più bravo del mondo e sento tu, tu, tu Al numero 4 abbiamo Frank Super con Pronto c'è la spagna? No, è uscita Per rimanere on tema Al numero 3 abbiamo il iconico 1, 2, 3 con due mamme, stanno parlando dei loro figli Mio figlio cammina già da tre mesi e l'altra, oh, chissà dove sarà ormai Al numero 2 abbiamo l'angolo del foot con Al milionario domanda qual è la bomba più potente? Atomica Jerry dice, l'accendiamo? Concorrente, no, sei pazzo? Al numero 1 abbiamo il ruolo di tamburi Francesco Maladei con come ti chiami? Lu, 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 luigi Sei papulziente? No, lui era mio padre E quello dell'anagrafe, un gran bastardo Ebbene ragazzi, questo video ci conclude Spero che questo tipo di contest vi piaccia E' diverso dagli altri Se volete partecipare Non ci vuole niente, basta che commentate con una battuta Naturalmente le regole trovate proprio ora Se questo video vi risulta la nostra bella Pollizioni in su Iscrivetevi al canale Sono 7 giù iscritti Qui al giorno vi spot Vi saluto e ringrazio E ci vediamo alla prossima con un nuovo video Ciao, bella a tutti E alla prossima